Scusate, io secondo me c'è comunque una certa discrepanza tra quello che tu dici e quello che fai, non ti sto dando l'ipocrita però ti piace fare delle affermazioni molto aggressive che poi io non vedo troppi nel suo continuo Scusate, quando hai detto bella la birra, facciamo? È la birra, certo Scusate, io sono un po' di... Cioè, questo... ... di dire che non mi era riusciti a fare ...danno i 10... ... che aveva fatto... ... è vero, cioè mi piace, c'è il sapore... ... quanto non va andare giù... ... il cibo, non ci chiedeva un apparecchio Il mio padre mi fa vedere al pasto, il mio padre mi fa vedere al pasto, il mio padre mi fa vedere anche a pranzo, mi fa l'acqua, così mi guarda e mi dice, non stai scherzando.